Lo sapete che l'affidamento condiviso è la regola nel nostro ordinamento? Bene. Allora, il genitore che frappone ostacolo al diritto di rivisita e frequentazione dell'altro viene sanzionato anche con un'ammenda piuttosto significativa. L'articolo 709 Terra non è un consiglio, è un ordine verso entrambi i genitori. I figli hanno diritto di mantenere rapporti con la loro famiglia, quindi con i genitori, parenti oltre il quarto grado, attraverso i tempi giusti perché si possa costruire un legame serio, quindi una questione di quantità e qualità dei tempi. La Cassazione, proprio recentemente, con sentenza 26.352 del 2022, ha condannato la mamma a 1000 euro di ammenda perché aveva impedito il rapporto del padre con il figlio. Ebbene, si tratta di una sentenza condivisibile. La madre aveva eccepito che nei gradi di giudizio precedenti il marito avesse sollevato la questione della pass. Ebbene, sappiamo tutti che la pass non è stata in qualche modo riconosciuta dalla scienza ufficiale e su questo siamo tutti d'accordo. Ma passa o non passa il fatto di non far vedere un figlio all'altro genitore è un crimine. Tant'è vero che l'articolo 388 del secondo comma nel codice penale lo punisce in maniera molto severa. Quindi vale la questione di fatto, non i danni psicologici o psichiatrici derivanti da una condotta. Quindi la passa non c'entra niente. Chi agita la passa tutte le volte evidentemente è in mala fede. Pertanto credo che si tratti di una sentenza, una delle tante sentenze che cerca di mettere a posto le cose. Per tutti gli altri miei interventi iscrivetevi al canale studiolegalegassani.it per essere sempre aggiornati. Alla prossima.